Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domenica si correrà la 49esima edizione della mezza maratona Roma-Ostia. Saranno almeno 10.000 le atlete e gli atleti al via. La corsa partirà dall'Eur all'Artezza del Palazzo dello Sport. Da qui gli atleti passeranno su Viale Europa e Viale Tubini, Viale dell'Umanesimo, Viale del Ciclismo, Viale della Tecnica, Viale dei Primati Sportivi e Viale dell'Oceano Pacifico. Per poi proseguire sulla Colombo in direzione di Ostia. Sono previste chiusure al traffico, in particolare sulla carreggiata della Colombo in direzione Ostia. Deviazioni e limitazioni di percorso per 30 linee di bus. Dettagli sulla mezza maratona Roma-Ostia di domenica sono su romamobilita.it